Oltre al bando che presentiamo oggi qui a Vallefoglia presso l'azienda Vetrotech, che è un bando dedicato all'innovazione di prodotto con riferimento alla Twin Transition, quindi transizione sia digitale che ambientale, abbiamo praticamente in previsione l'uscita di diversi bandi che usciranno presumibilmente verso la fine dell'anno, inizio anno nuovo, che sono dedicati alle start-up innovative, oltre che all'industrializzazione dei risultati della ricerca e abbiamo ulteriori bandi dedicati poi all'internazionalizzazione delle imprese, in particolare un bando fortemente voluto dal territorio che fa riferimento a internazionalizzazione intesa in termini di showroom, incoming, fiere e cura dell'immagine dell'azienda anche attraverso i social e gli storytelling, quindi aspetti di sicura rilevanza che ci vengono richiesti anche da questo ambito che oggi andiamo a trattare con questo tavolo che è quello dell'arredo. Per me è un onore naturalmente ospitare questo evento, la Regione mi ha concesso questo gran privilegio di poter essere qua oggi a divulgare questa loro importante informazione su bandi futuri e bandi imminenti. Sono bandi sull'innovazione, il nostro tessuto è un fulcro centrale per aziende e piccole e medie imprese che sono anche legate alla subfornitura e sono veramente innovative e lanciate verso nuovi investimenti. Sono bandi importantissimi, c'era necessità perché l'innovazione è praticamente quello che fa la differenza fra le aziende. Avevamo proprio bisogno di fare questo passo perché abbiamo una buona industria a tutti i livelli nella nostra zona e di conseguenza pensare che ci sono finanziamenti per fare innovazione ci arricchisce tutti e sostanzialmente ci dà una mano per guardare al futuro. La Regione ha a disposizione degli strumenti importanti che mette a sua volta a disposizione delle imprese soprattutto la programmazione dei fondi europei PORFESR e siamo in una fase già di avvio dove un bando in modo particolare rivolto alle imprese, quello della ricerca già in essere è il bando più grande mai attivato dalla Regione Marche, parliamo di 45 milioni di euro per la ricerca però oggi siamo qui per presentare soprattutto un altro bando che è quello dell'innovazione del prodotto e un bando di 28 milioni di euro, siamo qui a raccogliere, a dare delle informazioni ma a nostra volta anche a raccogliere delle indicazioni perché il bando sarà di uscita prossima fine ottobre, probabilmente inizio di novembre però alcuni dettagli sono ovviamente da costruire di certo abbiamo la dotazione che è 28 milioni di euro, sarà diviso a seconda anche degli ambiti individuati dalla Regione come gli ambiti di specializzazione intelligente oggi siamo qui a parlare proprio a uno di questi ambiti che è quello della casa arredo e all'altro ambito quello della meccanica. Per il bando che oggi presentiamo abbiamo a disposizione 28 milioni di euro invece per il bando delle start-up innovative si tratta di 9,5 milioni il bando dell'industrializzazione e della ricerca è un bando importante di 12 milioni per l'internazionalizzazione abbiamo messo un complessivo di 29 milioni e il primo bando che esce sarà di oltre 10 milioni dedicato ai temi che dicevamo prima. Quindi l'export è uno degli aspetti che stanno andando meglio è ovvio che il sistema dovrebbe avere un impulso maggiore e queste sono le situazioni dove noi spieghiamo e illustriamo un po' la visione della Regione agli imprenditori.